4 4 2 perfetto no così no ma non c'è un 4 4 2 fatto come comanda è così 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 pronostico va bene ragazzi va bene bene grazie grazie facciamo questo pronostico allora facciamo chi vince vince oggi il classico real real madrid barsellona o pareggio è partito votate su schermo saroman amaci c'è esatto il classico il classico lo fisso perché è vero ma non posso fissare che poi mi togli sondaggio sono pierla io scusami scusami non devo fissarlo allora ciao pietrone che bello vedere come stai io ok ci sono sistemo la squadra casillas fabio cannavaro non si toglie guardate quanto è forte cannavaro un grande orgoglio dell'italia raul bravo miguel salgado roberto carlos carlos si ci sta ancora siamo ancora in difesa diarra che non è cacca che non è cacca ricordiamolo per emma diarra non è cacca è contento e ma quando legge diarra è contento lui lo so è emerson figo becca ok e raul raul grandissimo anche lui poi abbiamo cassano valmisleroi cassano ha statistiche molto più basse ovviamente ma vediamo un po perché c'è robinio ragazzi e robinio non è meglio di cassano ma io sono un orgoglioso vedere cassano così forte cavolo ma cos'hai appreso a cassano ragazzi ma quanto l'hanno fatto forte cassano voglia ah ma c'è ronaldo scusami con tutto il rispetto possibile cassano non è per offendere ma abbiamo il fenomeno ronaldo uno dei più forti giocatori di sempre attacco oltre la linea coppia molto collaudata eh sì ronaldo valmisleroi funziona però possiamo dire che tutti mi chiamano per cognome io ti chiamo stefano perché mi piace chiamare per nome invece che per cognome però vittor valdes puyol marquez zambrotta van bronkhorst edmilsson cavi deco messi e toho cioè e ronaldino fino a che avevo ronaldo contro ronaldino ragazzi sfida classica classica come state cassano aveva appena vinto lo scuoletto con la roma era bello bello lanciato sì sì esatto esatto no no infatti infatti pensi a se chiamano per con gli uomo e te ti spaventi però hai preso il mio nome io mi spaventerai tantissimo ok ecco il calcio d'inizio che sorprese ci riserverà la partita di oggi impossibile sapere cosa accadrà vabbè vorrei vedere vorrei vedere se hai ragione ok comunque intanto sono di buon umore perché queste partite le adoro e mi diverto sempre a giocarle per me è uno splendore merso mannistero maurones andreani e ma non abbiamo cacca ma abbiamo dirà te lo stavo dicendo prima non abbiamo cacca ma abbiamo dirà non è real di cacca ma è real di dirà boss ok vorrei unirmi anch'io siete fortunelli ma non possono impegnato a giocare ma non è che l'ho fatta troppo veloce la partita io voglio fare 10 minuti sembra che scorrono in fretta mi scorrono troppo in fretta o boia o l'addino comunque questa è stata suggerita da top calcio che è un canale che si occupa di calcio sono onorato di questa richiesta quindi con piacere con molto piacere a gioco non è la prima volta che mi vedete ma la scorsa volta mi fu chiesto barcelona real poi ne abbiamo una sfida anche su pes 2012 più tardi la minaccia magnificamente eccola qua ho visto lei ho visto valmister e il re attenzione pugno ragazzi pugno che sembra uscito dei sembra uscito dai cugini di campagna questi capelli alex ciao cosa ne pensi di puyol nei cugini campagna cosa ne pensi bella associazione no ti presento un giocatore che non è che tu non sei troppo giovane per conoscere un certo leo messi mai sentito vero alex ciao lo volete veramente lo volete siete sicuri ma ciao bella gioia come stai torniamo al gioco che meglio lo diamo la pioggia no basta pioggia basta basta è finita è finita però dovrebbe piovere qualche giorno quindi ieri di nuovo l'ho toccata io scommetto no grande robertone carlos con un buon cross potrebbero segnare il primo gol chi non lo conosce non può capire quanto roberto carlos io adesso me la squaglio dice stefano va bene squaglia squaglia non fa ancora caldo o mister muscolo finita la città ma sai alex che vera sta cosa io ti ho chiesto ti ho dicevo prima mentre tu avevi la centesima pubblicità del mac che in questo gioco c'è c'è la leggenda assoluta c'è leo messi che è un giocatore che tu non conosci perché sei troppo giovane chi è leo messi mai sentito e lo so se lo so a volte si sfoca ma becca e di fronte alla porta ora solo si vannista eroi la messa dentro di testa sul calcio d'angolo lo stadio è esploso e si l'inzaghi olandese opportunista ma bravissimo bellissimo arriva di testa ma di cattiveria però voglio dire mentre ti guardano il gol si ben più lo sponsor che aveva all'epoca simens è vero guardate intanto io voglio farvi vedere uiol rivediamo l'azione con cui il portiere ha perso l'interno ahi sta uiol visto va alla faccia porco cane ho subito gol ce l'ha la faccia e io sono su streamlabs fra l'altro sono streamlabs sicuramente vorranno mantenere questo vantaggio si si anche a me anche a me anche a me anche a me ma sti scherzi che bello uff si è volato lunedì vado a questo signore a sistemare la legna oggi ha generato una data e domani lavoro extra yeah scherzi della natura scherzi di chi vuole risparmiare col server ma non dite la voce alta se dovessi scommettere sul risultato finale Mauro eh abbiamo fatto il pronostico eh avete pronosticato mi sa un real un abrio ecco qua perché ho usato il portoghese che sono spagnolo si ma io ripeto ho sbagliato e ho messo i tempi brevi peccato perché questa è una partita da giocare su 10 minuti ma sapete quanti gol uscivano su 10 minuti di gameplay per Ronaldo per Ronaldo Luis Nazario da Lima da Lima e Gisù no 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 oggi Twitch non vuole i miei soldi che soldi che soldi ah l'altro account oh boia oh boia una cosa sale di botto beh è una nota positiva vuol dire che oggi c'è partecipazione la vedo come un positivo cioè tu praticamente volevi sganciare soldi su Twitch oggi volevi fare il fullness gravato ritenta ah però non penso che ti riesci non so perché ti oggi ho preso le malbore economiche sono meglio della botte mastiba vai non me ne intendo guarda sigarette non è il mio oh che bella notizia beh non è una brutta cosa volevi fare un regalo al kosher gentilissimo volevi regalargli la gift su 200 mesi ragazzi da notare che Leonardo ieri è arrivato quasi in città prima la classifica il primo giorno mensile Alex mi ha praticamente scammato nella maniera più geniale possibile stavamo andando in ride e ha messo Jack non dire questa parola ride e quindi ha detto preparo un ride no ho appena detto la parola che non devo dire è fantastico emerson vai miguel salgado vai ci siamo david becca emerson volado volado lo fa lo fa panisterone bella non basta ti ringrazio se cambio gioco ma no non andare in trauma tizio non andare in trauma ah no se io dovessi mettere Final Fantasy scapperebbero tutti oh mio dio gli spoiler che non c'erano ieri testimone il buon pietrone eh no no è troppo è troppo non è possibile è possibile sono troppe parole con quella lettera però ti lascio cambiarla a tuo piacimento troppe troppe oh ma quella non la leggo volentieri va bene va bene è giudicato con piacere con piacere Roberto Carlos eh no non la leggo qui stiamo Cannavaro attenzione boia faus attenzione Inter Valencia va bene faremo Inter Valencia o non era Valencia Inter allora vabbè l'Inter Valencia abbiamo vinto è il classico pronostici